Salve a tutti ragazzi e benvenuti a essere in questo nuovo video di L'Oxodio Bene, andiamo a fare l'altro pezzo che ci manica Vediamo quello che ci dirà c'era mai Ok, siamo pronti? Si accarichi? E insomma, andiamo un po' Così a fare Sì Cazzo video Andiamo I nemici più piccoli possono essere uccisi istantaneamente in qualsiasi momento Le creature più potenti devono essere estudite prima di poter essere uccise Usa B per uccidere una creature piccola o stordirla Ucciditele tra i nemici usando solo le uccisioni istantanei di guerra Entro il tempo limite, a seconda del tempo rimasto riceverai di bonus Ah, sono quelli volatili Ci sarà da divertirsi Eh, ma non li vedo Ok 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 Dove cazzo sono? Eccoli qua Opla Eh, non mi salta Ok Ok Grazie Grazie mille Perfetto Aspetta un attico Aspetta un attico Dove cazzo sei? Eccoci qua Ok Ok Allora, praticamente quasi sempre le facciamo con le uccisioni istantanee Non ci dovrei preoccupare più di tanto Ok, vai Eh, vabbè Mi scusa, dovrebbe morirci un attico di personale, ma Eccoci qua No, aspetta un attico Oh Perfetto Perfetto Grazie Perché ho detto grazie, ma non lo so Mi dice che ho fatto grazie Ok Ok Perfettico Perfettico Adesso arrivo anche dal signoro qua E tacla Sla Assa fa E così Grazie Ok È giusto per ingegnerarmi un attico Guarda che sono Un pezzo di casino Vai Perfetto Perché non si è messi male male Ok 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 Vai Arrivo il signore Aspetta un attico Oh, porca vacca Cosa c'è mai qua Perfetto Eh, non vedo cazzo Non vedo cazzo Così Eh, non vedo cazzo Va bene, va bene Adesso ce la facciamo, eh Intanto andiamo un attimo qua Vai Eh, un attimo solo Perfetto Eh, non vedo Non vedo Scusi Si potrebbe morire un attico Perfetto Ecco Non manca tanto Eh, ci sto provando Però sto facendo solo cacato Fino adesso E' stato bravo a farle Però Ok Vai Ok, vai Perfetto Benissimo Eh, no Aspetta un attico Aspetta un attico Porca vacca Sto spaccando il culo Signore Dovremmo dirci un attico Eccoci qua Eh, no E' un po' stronzo Lei lo sa Perfetto Non è che ci siamo Quasi Vai Ottimo Benissimo E ci siamo, eh Ecco fatto Poca vacca Eh, cavoli Non è che sia stato difficile Però neanche la passeggiata Ok Vediamo se c'è qualcosa in giro È stato divertente Possiamo farlo di nuovo? Eh Ok Vai E vai Perfetto Ottico Data E ci è rimasto più ultimo Oh Oh Cazza No Stavo confondendolo Come si è messo a vita? Bah Non lo so Andiamo Ah, ma guarda Come hai messo la spada? Eh Neanche tanto bene Ok Andiamo pure Quanto si è messo ad anima Ah Era il 1.2 Che ci serviva? Ah Cazzo Per poco Eh Vabbè È andata così Ci faccio a dire Dove ho fatto fare Questi qua Eh Vabbè A meno che Non riesca in qualche modo A far così Vediamo se Riesciamo A arrivare il 2 Non Penso, eh Poglomeno Non ci riusciamo Peccato No Vabbè Ci ho provato Eh C'è poi Sto sbagliando Tutta che strada Eccolo qua Vediamo pure Vediamo come farlo Eccomi qua Allora Vediamo un po' V Vai E vediamo Corci che dera mai Sì Vediamo un po' Uh Ma che emozione Vediamo un po' E ride E si fa E si fa Delle sbaccarate Tieni premuto Left trigger Per concentrati sui nemici Tieni premuto X Per scagliare i nemici In aria Con guerra Ok Ok Ci provo, eh Non sarà facile Ok Perfetto Non ho ben capito Se era questo Che volesse No Devo mozzare in aria Probabilmente Ok 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 così Perfetto Perfetto Ah perché è facile Dai Perfetto Beh è stata una passeggiata Questa L'emilecinque Grande Importante è capirci Eh I riflessi istintivi di guerra Si sono risvegliati Premendoli Permettendoli Di contrastare Attacchi Fisici E proiettili Per Per Appena Prima dell'impatto Ecco Mi ricorderò Eccellente Dici Non te Non te Ok Vai Grande Adesso li prendo So che sono pieni No è per carità Però è divertente Eccoci qua È andata Perfetto Quello deve essere L'ultimo di loro Andiamocene da qui Sì Io Andrei da Volver Volver Gugat Si chiamano Vorrei Sì ho capito Ci andiamo subito Andiamo Torna al cancello Vediamo se riesce a far muovere Quell'inutile cumulo di macerie Sì sì Prima voglio Potenzionare un attico Scusi un attico Sono qua Non lo fai Scusa Eccoci qua Vai Di qua Era quella Da 1200 Allora Questo era bello Il croce del diavolo Che non mi ricordo Come cance si faccia RB più X Questo mi piace Scusate RB più X Cosa desidera Da questo umile mercante È bello È bello È bello Ok Devo pure Più danno facciamo Meglio è No Insomma Sì Questo è lo scopo Eccoci qua Vediamo pure Vediamo che fare Vediamo se dice qualcosa Torna al cancello Vediamo se riesce a far muovere Quell'inutile cumulo di macerie Eh sì Un attico Sono qua Vediamo Vai Gli antenati ti approvano Tutto qua Questo potenzialmente Incrementa il danno Infitto da guerra Con le armi Ambientalo Vabbè Proviamolo Vediamo un po' Come glielo metto Il danno ambientalo Tecniche Tecniche No Non c'è Non capisco Ah ok L'ho trovato Di qua Scusate Farvi vedere Che cazzo fa Ah non è che dice tanto Sicura anime Per la distruzione Di oggetti Dello scenario In qualsiasi modo Beh Questo può essere Buono Poi questo invece No qua Grazie Incremento il danno Infitto con una Eh forse è meglio Far così Così E questo Così Ok Per adesso Proviamo a far così Poi vediamo come va Andiamo Ah devo andare di qua Scusate Mi scelgo confusa Come vi è solito Bene bene Andiamo pure Vediamo un po' Come fare Eccoci qua Siamo in una nuova zona Qui ovviamente Spacchiamo tutto Perché Io devo assolutamente Prendere Lo so che sulla palla Però mi serve Più roba abbiamo E più punti facciamo Eccoci qua C'è voluto tanto Dai Insomma Vediamo Quel bonus Voglio capire Eh Non è male Non è male Vai Ah Poi ciò ma che ruenza Ok E dobbiamo andare di qua Va bene Di qua non c'è un cazzo Beh siamo a posto No Vai Vediamo un po' Il signore ruente È un po' più meglio Sì Eh 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 niente Oh si è fatto malo Eh poverino Eccoci qua Eh si è fatto malo Eccoci qua Eh li abbiamo presi tutti Ma signoro Non si fa così Vediamo un po' Vediamo se ci riesco Giusto per Eh Ma col cazzo Proprio Ho fatto una Caccata da fare È bella È perfetta Per insomma Il senso Ecco qua Vai Ce l'ho fatta E lì ce n'è un altro Eh ma pieno piano Insomma siamo qua Oh ma c'è qualcosa Lì Ma che cosa gloriosa Allora Vediamo un po' Perfetto Adesso Che lui Gli ha ammazzati tutti Io Mi diverso un sacco qua Perfetto Ottimo Vai Ecco qua Adesso ragioniamo Oh Fame Fame Perfetto Possiamo andare tranquilla Mont Uno Due E vai Tac E tac E tac Perfetto Quando lo guido Vi dico Perfetto Andiamo pure E qua Stichiamo tutto Quello che riusciamo a spaccare Perfetto Ottimo Niente più E certo che c'è Nell'altro Eccoci qua Quanti Quanti Punticini Vai Vediamo cosa fare C'è nessuno Ecco il cazzo Vabbè Eccoci qua E l'ho fatto presto Ho sbagliato Scusate Oggi Non riusciamo più a giocare Eccoci qua Tac Scusi signora Può morirci Grazie Molto gentilo Ecco qua Altri Oh Ciao boia Ti ho fatto malo Sì Ok Perfetto Ottimo Tanti Tanti Danni Vai Vai Perfetto E' divertente Eccoci qua Ok O salve Potremmo dire Che l'è Grazie Scusi E' molto poetico Tutto ciò E' proprio E' come posso dire Sì Ho già fatto E' meglio di picchi Insomma Ok da qui siamo venuti Vero? Mi ricordo già più Mi sembra di sì 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 Da qui siamo venuti Perfetto Vediamo tanto Qua non sembra esserci nulla Credo E andiamo pure di qua Avanti Adesso comunque guardo la guida Perché se no Faccio cacate Eh sì Dovemmo andare di qua Ok Vai Rapid Ottico Non c'è niente E' a posto Nuovo Ok Vai 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 Che vi siamo di tutti La sala Interrata Andiamo un po' Interrata da chi? Salvevi scusi Devo prendere un attico Eccola qua A posto Ok Scusi Scusi Non vedo cazzo Dove è finito? Eh ma porca miseria Vabbè Intanto andiamo qua Che poi ci pensiamo Eccoci qua Guardate cosa c'è Tac Eh? Figata Gli odiamo Tipo top Non scassi più marroni Eh così Così sembrerebbe Ma dove finito Il tipo Non lo so Vabbè Va bene Proseguiamo pure Poi vediamo Adesso lo facciamo Cercare di fare il 100% Siamo a posto Salve Opla Oh ho fatto l'iscia da panico Eccoci Oh ma ce ne ha altri Eccoci qua Fatto Sta bene no? Vediamo se c'è qualcun altro Oh c'è vai Non l'abbiamo visto Ecco Perfetto 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 Oh c'è vai Ma si fanno punti qua Allora fatevi vedere Dove esattamente Dobbiamo andare Ma io andrei verso Walgreens Se me l'ho concedente Vai O c'è vai Ho fatto Il più bello Salve Scusi Salve O c'è vai Dio Ho spappolato tutto Oh ma c'è Altra gente Eccoci qua Tac Poi Qua Tac Vai Ecco Così mi ha fatto prima Altri No possiamo andare Andiamo pure Di qua Opla Tac Lo scerci qua No Salve Eccoci qua Tac E qui Altri ancora Tac Eh c'è voglia Tac C'ha leppa Deu Eh vai Andata E siamo un bel po' avanti Eh non è malo Adesso dobbiamo andare verso qua Perché dobbiamo andare sott'acqua A prendere una cosa nascosta Di qua scusate Mi scende confuso E me capita Vai vai Salisci Scedisci Ecco qua Ci siamo Vai Ottico Vedete Ci siamo quasi Adesso andiamo verso Walgreens Vai pure Grazie Ottico Benissimo Beh dai Non è andata male Neste episodio Salve Signor Walgreens Mi parla Cosa desidera Da questo umile mercante Un po' di ciò monte Vai Tu scambia Eeeh Vediamo un po' Incremento al danno Questa non è male Incremento al danno di sto coso Vai La tua saggezza è pari alla tua forza Grazie E' molto buono Croce del diavolo Come si fa già Eeeh Vediamo un po' Eeeh Tecniche Croce del diavolo Con Con Conta Conta Attacco Eeeh Non me lo ricordo come si fa Sinceramente Vabbè Pazienza Ormai è andata così Vediamo se ci dice qualcosa Al tipo La cattedrale del crepuscolo Samail aveva detto qualcosa Riguardo al cercare la zona superiore Deve essere difficile Per un abituato a sguazzare nel fango Come te Non mi ha detto un cazzo di niente Vabbè dai ragazzi Potrei anche dire Che ci possiamo fermare qui Per questo video e tutto Io vi invito come salto Lasciate un like Commento se vi piace Asservate appunto Fammi sapere Cosa ne pensate Adesso Vi saluto a Shiba Ciao ciao